Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. L'argomento di cui voglio parlare è molto caro a tutti gli studenti universitari, infatti oggi parliamo di ansia, ansia pre-esame in particolare. Cerchiamo di capire che cos'è, come funziona e soprattutto come devi gestirla ed evitare che ti blocchi durante l'esame. Però prima di fare questo mi presento se non mi conosci già, sono Nicola, sono un dottore in scienze tecniche psicologiche e laureando alla magistrale di psicologia. In questo canale con più di 100 video sto creando una piattaforma in cui tutti gli studenti universitari possono trovare le risorse necessarie per riuscire a arrivare ai propri obiettivi senza rinunciare alla propria vita, alla propria vita sociale ad esempio e soprattutto cercando di ottenere il massimo sia durante gli esami sia alla fine del percorso universitario. Nello specifico oggi per aiutarti voglio parlarti di ansia, ansia pre-esame. Ma prima di parlare di un'ansia pre-esame che in realtà ti dico fin da subito che non esiste l'ansia per natura, una tipologia soltanto e ovviamente ogni condizione, ogni situazione può farla sorgere e quindi noi comunemente la chiamiamo ansia pre-esame o ansia da esame. In ogni caso io voglio darti subito un termine che ti fa capire cos'è l'ansia e quindi da qui poi approfondiamo un po'. L'ansia è anticipazione, quindi è la nostra risposta di preparazione a qualcosa che sta per accadere. Spesso siamo ansiosi anche per qualcosa che non è ben chiaro e questo anzi peggiora la situazione. E adesso ti dirò qualcosa che possibilmente ti può stupire ma che è veramente importante per capire come devi gestire l'ansia. Prima di tutto non devi eliminarla, non puoi farlo, ma soprattutto non devi perché l'ansia all'interno di un certo range di accettabilità è comunque fisiologica, ti serve e ti prepara quindi a rispondere a questo qualcosa che stai anticipando. Appunto in questo caso parliamo proprio dell'esame che suscita in te queste emozioni proprio perché sai che ti sentirai tra poco giudicato o giudicata e comunque questo avrà un effetto anche sulla tua carriera universitaria. Quindi questo è in breve che cos'è l'ansia e vediamo soprattutto cosa intendo quando dico che all'interno di un range di accettabilità l'ansia non solo non deve eliminarla ma soprattutto dovresti cercare di fartela amica e non nemica. C'è una legge che nota gli psicologi che è definita la legge di Yerkes e Dodson che definisce il rapporto tra l'ansia e le prestazioni. Quindi in teoria i voti più alti per andare a semplificare e un po' a generalizzare sono associati a valori di ansia medi quindi non valori estremi in cui l'ansia è eccessiva o è del tutto assente e questo potrebbe anche stupirti infatti non è l'assenza dell'ansia quella a cui devi puntare e soprattutto quando sei abbastanza attivato quindi stai cominciando ad anticipare un po' quello che potrebbe succedere durante un esame ma al tempo stesso hai studiato e quindi sai di avere una preparazione alle spalle allora in queste in questo caso sussiste quella condizione fondamentale che ti permetterà di ottenere il miglior risultato possibile la migliore performance ovviamente questo è dettato anche da alcuni aspetti che entrano in gioco durante l'esame stesso se vuoi approfondire questi aspetti e se vuoi scoprire di più ti rimando al mio canale quindi tornando all'ansia nello specifico abbiamo capito che l'ansia per valori medi quindi quando non ti blocca ma al tempo stesso ti senti abbastanza motivata e non del tutto disinteressato è quella ottimale quella che ti garantisce i migliori livelli di performance quindi abbiamo capito che i due estremi sono il problema infatti il problema può sussistere e per la maggior parte dei casi è proprio questo quando l'ansia è troppa quando l'ansia ti blocca non ti permette di parlare di esprimerti come vorresti di esprimerti magari come hai precedentemente fatto quando hai ripetuto durante lo studio individuale e adesso ti trovi davanti al docente che sai cosa dire magari non sai come dirlo o proprio quell'informazione è in questo momento irreperibile anche se era perfettamente chiara e accessibile fino a qualche momento fa prima di cominciare l'esame in ogni caso questa è un'interpretazione tua di quella situazione in particolare infatti i valori molto alti di anzi irreali è la tua interpretazione di questi segni interpretando appunto quello che si sta manifestando nel tuo corpo in questo momento come una fonte appunto di anticipazione di preparazione appunto di ansia arriverai ad alimentare quest'idea e porterà nuovi segni quindi a rafforzare questa tua condizione del momento questo è un circolo vizioso che ti porterà quindi ad essere rilegato o rilegata a questi meccanismi ma quello a cui tu devi puntare invece è rompere la catena per cui interpreti il tuo stato fisico in quel momento perché l'ansia proprio caratterizzata dai segni fisici quindi rompere l'interpretazione di questi segni come qualcosa di negativo infatti la chiave di volta è proprio riuscire a capire che tutta l'ansia che provi è ansia normale quindi è accettabile va bene così è giusto che ci sia l'ansia ti serve l'ansia perché permette di avere la migliore performance quindi non resistere quando magari cominci a sentire i primi segni dell'ansia stessa perché vuol dire che in quel momento stai anticipando la tua risposta a quale sarà poi lo svolgersi lo svilupparsi dell'esame stesso prima di parlarti di un altro aspetto molto importante per riuscire a risolvere il tuo rapporto con l'ansia che riguarda la preparazione voglio parlarti di un caso all'altro estremo dell'ansia stessa quindi il caso in cui invece l'ansia non è associata a valori altissimi infatti mi riferisco a quei casi in cui l'ansia ha valori molto bassi valori che sono ad esempio dettate da forme di demotivazione e questo è un altro problema molto importante se ti senti demotivato poco incuriosito poco spinto ad arrivare a quell'esame preparando nel modo corretto e quindi magari ti trovi disinteressato verso tutto l'aspetto universitario quindi ti manca quella spinta in più quell'anticipazione appunto per l'esame che ti aspetta allora in quel caso il problema non è legato all'ansia non è legato alla preparazione il problema potrebbe essere legato alla tua motivazione per quanto riguarda studiare all'interno di quell'ambito e quindi se vuoi scoprire qualche aspetto in più per quanto riguarda la scelta o meno della corretta carriera universitaria se la carriera universitaria fa per te anche in senso più ampio ti rimando a alcuni video che ho sul canale in cui ti spiego proprio questo aspetto quindi avendo definito sia l'estremo in cui l'ansia sembra essere per valori molto alti e quindi preoccupanti ma anche casi in cui l'ansia sembra non è non esistere adesso voglio parlarti della preparazione infatti la preparazione è la migliore soluzione il migliore antidoto per la gestione dell'ansia infatti la preparazione è ciò che ti porterà a sviluppare la competenza e la competenza ti permetterà di gestire meglio l'aspetto emotivo ma anche quei piccoli dubbi che possono sorgere poco prima dell'esame ad esempio ovviamente quello che voglio condividere con te è l'idea che non arriverai mai ad essere del tutto esente dall'ansia anzi abbiamo appena visto che essere completamente privi di ansia non è un aspetto positivo quando ti trovi in sede di esame ad avere un minimo di dubbio un minimo di esitazione in ogni caso questo è un segno positivo vuol dire che ti stai preparando nel modo corretto per poi incominciare l'esame e quindi mettere alla prova quanto hai studiato a livello individuale quindi quella che è stata la tua preparazione quello che si nasconde dietro questi dubbi queste piccole incertezze che sono comunque fisiologiche normali è che non esiste una garanzia che il tuo esame andrà nel modo giusto magari nel modo in cui speri e quindi questo è normale e da accettare insieme ad accettare tutta quella componente fisica dell'ansia che ad esempio può manifestarsi come forme di confusione mentale quindi quando ti manca la concentrazione ad esempio ti manca l'attenzione in quel momento ma può avere anche degli svolti fisici chi soffre di disturbi a livello intestinale ad esempio o chi comincia a sudare in modo profuso senza riuscire a controllare questa risposta normale chi si sente aumentare i battiti cardiaci e chi invece ha la gola completamente secca quindi spero di averti aiutato a capire in cosa consiste l'ansia il fatto che non esiste un'ansia preesame ma esiste l'ansia in generale e l'esame è uno di quei motivi per cui è normale che noi proviamo ansia qual è la giusta quantità tra virgolette di ansia che dovresti provare come gestire un po l'aspetto fisico che poi magari quello che più scomodo quello che ci dà un po più fastidio durante nei momenti in cui ci sentiamo ansiosi in apprezzione e soprattutto qual è l'utilità di questo fenomeno emotivo che ci accomuna tutti e che soprattutto ha un suo effetto adattivo quindi ci serve a qualcosa a questo punto spero di averti aiutato se vuoi rimanere aggiornato o aggiornata sui video che escono quotidianamente ti invito ad iscriverti al canale se hai qualche dubbio qualche domanda magari vuoi condividere con me la tua esperienza o le tue esperienze con l'ansia scrivi nella sezione dei commenti leggo e rispondo sempre con molto piacere quindi io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ci vediamo nel video di domani